Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Sulla linea della metropolitana treni di nuovo sui binari dalle prime corse di questa mattina tra le stazioni di Arco di Travertino e Ottaviano. È stato riattivato il servizio sull'intera linea dopo lo stop parziale programmato avviato lo scorso 11 agosto da Atac per i lavori di rinnovo dei binari. Il cantiere prosegue adesso nelle ore serali. Oggi e domani comunque la linea A al pari delle altre metro sarà attiva sino a 1.30 di notte ora dell'ultima partenza dai capolinea. Da domenica riprenderà il cantiere serale con i consueti orari. Dalla domenica al giovedì ultima corsa alle 21 e poi bus sostitutivi della linea MA il venerdì e il sabato servizio regolare appunto sino a 1.30 di notte. Sempre in tema di manutenzione sulla rete dei trasporti oggi iniziano i lavori sulla ferrovia regionale Roma-Tivoli-Avezzano a cura di RFI. La circolazione dei treni sarà sospesa e sostituita con i bus da oggi a domenica tra le stazioni di lunghezza e Guidonia. Dal 28 agosto al 17 settembre tra bagni di Tivoli e Tivoli. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.